Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di MondiCubi Ragazzi si continua qua eravamo appunto nella caverna E ho visto che appunto l'inizio è stato molto gradito Qua sono esplosi ancora tipo 5000 creeper E ok vediamo un attimo alla caverna che cosa ci offrirà Perché appunto come avevo promesso in questo episodio andiamo un po' in cavernozza Anche se siamo pieni fino a non so cosa E dobbiamo andare in casa mi sa Esploriamo giusto un secondo la caverna Al massimo se finisce così male la posso anche Cioè posso anche prendere la roba off camera Che è una cosa abbastanza noiosa Qua c'è qualcosa No non c'è niente E allora Andiamo a modificare un pochettino le impostazioni Ovvero il volume generale E lo terrei a 100 Ok Così Vediamo un po' Sì A 100 Così tutte le altre impostazioni saranno abbassate Perché se io lo tenevo a 30 Avevo queste qua Ma con 30% Solo il 30% di queste qua Quindi di 10% avevo il 30% Quindi teoricamente è come se questo era a 3 Quindi questo lo rimettiamo a 10 E questo lo portiamo a 100 Ok Spero che il volume non sia fastidioso Comunque poi controllerò Ehm Niente ragazzi Adesso appunto girovaghiamo un pochettino per questa caverna Vediamo un pochettino quanto ferro possiamo per me Ah guardate là c'è un bello zombie Muori bello zombie Uh là c'è anche un bellissimo creeper Ciao bel creeper Che bello che sei Oh ce n'è un altro là dietro Guardateli che infami che sono sti creeper Guardateli Adesso gli facciamo uno scherzo no Ah no Viene lui da no Ci pensa Ci pensa da solo Bravo Stac Dai vieni Dai Ok Cosa butto Mmm Cosa butto Mmm bella domanda Ehm Facciamo un po' di torce Ok così risparmiamo un bel po' di spazietto Perfetto Allora qua avrei un sacco di minerali da prendere Ma li prenderò a sto punto Li prenderò dopo Adesso provvediamo a illuminare la caverna Ok Sarebbe figo trovare un dungeon Sarebbe veramente la cosa migliore Adesso mi giro C'è un dungeon Ok No magari Ehm Ok qua si riscende esattamente dove eravamo prima Ok quindi la caverna finisce così Abbastanza deludente Sì Finisce così la caverna ragazzi E quindi appunto faccio un piccolo stacco Già per cominciare E prendo Tutti i minerali che sono rimasti Sono rimasti in giro Così Vaganti Logicamente Se succede qualcosa Riapro la registrazione Quindi ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi Eccomi Stavo portando la roba a casa Quando ho visto Dov'è finita Una strega Dov'è? Eccola là Eccola là Adesso vi faccio vedere Avevo visto una bella stregozza Dai morite Morite Dov'è la strega? Dov'è? Dov'è era? Dov'è era? Eccola là Guardatela là ragazzi La dobbiamo uccidere A tutti i costi Voglio i suoi drop Guardatela là come corre Con la sua Ha preso la pozione di velocità Oddio Cosa mi ha fatto? Lentezza Vuoi un po' di botte? Vieni qua Vieni qua Vieni qua Maledetta stregaccia Cosa mi ha droppato? Oddio Mamma mia ragazzi Ah mi ha droppato degli stupidi stick Comunque direi che è ora di andare a dormire ragazzi Decisamente Mamma mia quella stregaccia Eh si ci sono ancora le streghe Fino ad allovin abbiamo le streghe Quindi potremmo fare una caccia alle streghe Mmm Si potrebbe fare Oddio Dove va? Eh cosa vuoi da me? Vai via No Ok non è una bella situazione questa Per niente Scappa Eeeh Ok Siamo nella popò Decisamente Allora con calma C'è qualcuno di qua? Sembrerebbe di no Ok Si può dormire? Direi di si Ok Uff Mamma mia ragazzi Dormi 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 Perfetto Oddio abbiamo rischiato eh Sì Comunque appunto Sto venendo a casa a posare la roba ragazzi E ho contatto la strega Voglio farvela vedere Comunque sì Penso che faremo una bella caccia alle streghe Sarebbe molto molto epico Comunque Tornando a noi E dobbiamo Eeeh Appunto per posare la roba Dobbiamo avere delle casse Che al momento non abbiamo No Come si craftano le casse? Si craftano Esattamente Così Quindi prendiamo tutto questo bel legno I buttati via questi Ok Facciamo una cosa così Ok E prendiamo le nostre belle casseruole Scusami se ecco io non volevo Ok E le mettiamo Qua Ok E posiamo logicamente tutti quanti i materiali Inutili Ok E appunto adesso faccio un paio di viaggi Porto tutto quanto su e giù a destra e a sinistra Cuocio la roba Faccio tutto quanto Ragazzi ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi Eccoci qua sto facendo cuocere un po' di carne Allora sono andato in miniera Ho raccolto un bel po' di ferro L'ho già fatto cuocere Ho preparato un'armatura Vedete Un'armatura in ferro Quindi una cosa molto scialla per ora E Allora qua Ho anche risistemato un pochettino La cassa Meglio qua ne abbiamo un'altra Ma per ora non la usiamo E appunto qua Mi sono preparato per un'altra spedizione Che stavolta sarà un'altra caverna Appunto mentre Aspettiamo il cuoce che carne Stavo per dire No la carne che cuoce Ecco E Andiamo E Dove è finita? C'era un cratere enorme Forse questo Sì probabilmente sto qua Ce ne erano due però Ce ne era uno che era ancora più spaventoso Dove era? Boh non lo trovo più Comunque li andremo appunto A vedere entrambi E Andiamo un attivino adesso appunto in casa Prendere Mamma mia qua bisogna di nuovo mangiare Mangia mangia Ok Bisogna andare in casa Prendere appunto La pappa che è pronta Mi porterò una bistecca Delle miele E Altre Altre Cotolette Di cosa sono Altre bistecche Questo qua cos'è la cotoletta? No Questo qua è la Costoletta di maiale Ok E Ce l'ho con la cotoletta ragazzi Sempre a dire cotoletta Cotoletta In realtà è la costoletta Ok Lasciamo stare Andiamo di qua ragazzi E appunto Incominciamo a entrare in caverna Allora Di qua giusto o si Perfetto Ho preparato anche un bel po' di torce Allora Come al solito Prima il lumino E poi Se appunto la caverna Me lo consente Raccolgo I minerali E Off camera Allora Entriamo Pian piano Ok Guardate qua come scende Già Adesso si ferma di colpo Finisce lì L'avventura E infatti Manco a dirlo Ok Quindi questa qua Passerò a ripulirla Poi off camera Dai Adesso Andiamo dall'altro Dall'altro buco Veramente deludente Questa caverna Mamma mia Che tristezza Allora Poi avrei in mente Tipo un piccolo progetto Ovvero Una cosa che vorrei fare Vorrei fare Una specie di pozzo Laggiù Cosa c'è Che è quella forma strana Cosa vuole fare Con una forma strana Ah no È un chunk Caricato male E Appunto ragazzi Vorrei fare Se trovo di nuovo Una caverna Ok Questa qua Già è più carina Vorrei fare un pozzo Logicamente scavato Grazie a una caverna Là c'è un'altra strega Guardatela là Vediamo un po' Se riusciamo a killarla Per bene Questa qua Vai 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 Uccidila 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 Oppa Guardate un po' Cosa c'è Troppato Le bottigliette Vai Perfetto Adesso ci da Logicamente L'obiettivo Cacciatore di mostri Giusto in tempo Ho già ucciso Solo 5000 creeper Ok Qua La caverna Uh Sì sì Qua secondo me La caverna si allarga Dai A proposito di creeper Eccolo lì Il ritorno del creeper Via Maledetto Via Maledetto creeper Mamma mia Se ti odio E' proprio fastidioso In un modo assurdo Il creeper Allora Andiamo di qua Illuminiamo Come al solito Poi appunto L'arcolta Verrà fatta Off camera Muori Ok Oddio Creeper Vieni qua Vieni qua Maledetto Mi aspettai dietro l'angolo Io vorrei trovare un dungeon Ragazzi Così faccio una bella Fama tattica Via Ok Così abbiamo anche un metodo Per expare Expare Experienza Qua dove si va Ok Qua la caverna Continua Quindi un buon segno Ok Dai per favore Non smettere Caverna Continua Così Qua logicamente Si esce fuori Oiii Mamma mia Che paura Ma perché ci sono 5000 creeper In modalità difficile Secondo me Si spawnano Tipo il triplo Dei creeper Perché è incredibile Che ci siano così tanti Mamma mia Tutto un creeper Questa caverna Si può passare E' permesso Si Si può passare Si Un dungeon Un dungeon Un dungeon Ragazzi Mamma mia Ci speravo troppo Ok 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 Vediamo di che Di che mob è E' di scheletri Si ragazzi Di scheletri Di scheletri Di scheletri Via 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 Tappa 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 Scappa 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 Si che fortuna Si Allora vieni qua Maledetto Si che cuore ragazzi Che cuore Che cuore Non ci credo Si Uuuu Guardate qua Mamma mia ragazzi Non ci credo La name tag Ok Ragazzi Un momento di calma Dobbiamo calmarci Un grande respiro Adesso Se non sbaglio Non siamo nemmeno tanto A bassa quota E ok qua E' anche notte Tra l'altro Quindi direi Di uscire Con calma Ok Vedere In che punto siamo Perché se siamo vicini A casa Non ci credo Siamo a due passi Da casa Abbiamo trovato Un dungeon Oh che bello Che bello No davvero ragazzi Sono troppo contento Un dungeon di scheletri Ci voleva Ci voleva veramente Questa Quindi comincia subito La costruzione Del dungeon di scheletri Perché è già Della fam Di scheletri Perché ci serve assolutamente E dovrà essere efficiente Al massimo Perché Con questa Con la 1.7 Faremo delle cose Con il bombillo Il bombillo ci servirà Veramente molto Perché appunto Potremo colorare il vetro La clay Dovremmo colorare Un sacco di cose Là a proposito Ci sono 5.000 zombie Che Non sono proprio Il massimo Ok Via Dalle scatole Ce le ho tutti dietro Vero? Sì Ne ho tipo 8.000 Sì Ne ho tipo 500 dietro Ma va bene Mamma mia Perché sono così tanti Di zombie? Combattimento All'ultimo sangue Vuota C'è una azione Oddio Mamma mia Ma perché Sempre Creeper Uffa Creeper Io ti odio Ti odio Troppo Mamma mia Muori Muori Ma perché Ha finito La spada No No Via da me Via da me Cosa vuoi Allora con calma Ragazzi La situazione Si fa calda Ci sono due strega Addirittura Non lo so Oddio Spada la mano Ok Provati Provaci Avvicinarti Dai Come on Maledetto Via da me Stami lontano Via 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 Buttati via Buttati giù Oddio Vai via Lontano Ma perché Devevo scoppiare sempre Questi stupidi creeper Dov'è che avevo visto No 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 e no Allora calma Calma Ci vuole Calma E sangue freddo Perché là c'è pure Un scheletro che mi vuole sparare Ci sono troppi scheletri Che mi vogliono sparare Ragazzi Qua ci lascio le penne Qua ci lascio le penne Per forza Oddio No 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 Perché 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 Aiuto 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 Oh via di qua No 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 Tu non puoi venire qua Non puoi venire qua No non puoi 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 Sono morto Mamma mia Mamma mia Che rabbia Che rabbia Perché Non è possibile Adesso vado a dare gli spacco la testa Adesso vado a dare ragazzi Le ammazzo Ma perché è pure il baby zombie Non è possibile Ho appena trovato un dungeon Allora Con calma Molto calmo Chi se ne frega Se prendo danno Io ho bisogno di tutta la mia roba Allora sciallo E vai di là Ok Stupidi mob del cavolo Mi sono fatto pollare Quel stupido ragno Che mi ha buttato di sotto E' stata la mia rovina Io i ragni li odio Veramente E così si muore Nel secondo episodio Molto bene Di qua giusto Sì di qua sono morto Pensate se non ritrovo nemmeno la mia roba Veramente scleravo ragazzi Ma mia non è possibile Aiuto Ok Ok posso tirare un sospio di sollievo Tra virgolette Ok La mia armatura si è già Mezza fottuta E Sì siamo messi veramente male Al momento Adesso arriva un bel creeper Perché non manca mai Anche un creeper Eh si direi che Sono abbastanza motivato Adesso a costruire la mia casa Sì Direi che la casa è abbastanza necessaria Quindi Ma un altro Ma quanti siete Ma incredibile Che sono così tanti Ma non è possibile Che siete così tanti Come fate Come fate Come fate a spuntare di continuo così Ok Proprio di sclerare Ai primi episodi Così Sono una cosa meravigliosa Ragazzi Allora prendiamo giusto Un paio di cosette Ragazzi faccio un piccolo stacco E Anzi no perché La posso fare anche così La casa Tanto il progetto in mente Ce l'ho adesso Allora Eh Come voglio farla a casa Uh Se bisogna per forza Farla a casa Io volevo Mi ero fatto prendere troppo Dalla farm di zombie No di zombie Di scheletri E sono schelerato ragazzi Aiuto Gli scheleri mentali proprio Allora E Quel ragno Veramente è stata la mia rovina Ma non è possibile Che due scatole Morire così Allora Vediamo Mhm Di qua Vediamolo Ho 7x7 la casa quindi Di qua Facciamo Un Una Colonna alta 3 ok Perfetto Di Qua Credo Di Qui Ok In questo punto Facciamo un'altra colonna Allora 1 2 3 E anche di qua Facciamo un'altra colonna 1 2 3 Perfetto E così abbiamo Una specie di base Il resto sarà tutto di legno Ok Quindi Tacchete No Allora Ascia la mano Perfetto Allora Faccio Adesso Tutto quanto Il resto In legno In legno Classico Voglio appunto Che la prima casa Sia classica Quindi sarà tutto Così Ok E appunto Faccio un piccolo stacco Ci vediamo tra pochissimo Tata Ok ragazzi Lo so Fa schifo Però Lo stile più classico Che viene usato in minecraft E la prima casa La volevo far così Lo so che magari Potrebbe stonare un pochettino Che il resto del mondo Se verrà bene Appunto Ma La volevo far così Mi ispirava troppo Quindi così Appunto Ci sarà l'entrata E Dentro appunto Beh bisogna fare una porta Quindi Tacchete porta Piccolo trucchetto Mettetela così In modo che gli zombie Non la spacchino E E Cos'altro Niente Allora Questo qua lo posiamo Perfetto E Ragazzi Veramente Un colpo di fortuna Il dungeon Peccato che sono morto Mi è dispiaciuto Ci sono rimasto male Molto triste Allora A parte quello Comunque ora Facciamo un paio di slab Che ho già fatto Solo che sono ritardato E non me ne accorgo E Facciamo una colonna di coble Di coble Cobble coble Ci arrampichiamo Su di qua Ok E facciamo Tutto il tetto Di slab Di cobblestone Appunto La prima clasa Sì Oddio Non riesco neanche più a parlare La prima casa Deve essere Veramente Molto Easy Molto Semplice Non voglio far nulla Di complicato Allora Di nuovo Un po' di slab Ok Così direi che basta Ne avanzano Anzi Non fate troppe Comunque Noi le facciamo Appunto le mettiamo Scusate Allora andiamo di qua Opla Perfetto E giusto per Fare una cosa Un attimino Più carina Facciamo anche un bordo Quindi facciamo così Ok Ricordo La prima casa Sarà Molto Molto Scialla Adesso voglio Cominciare a lavorare Fare un paio di farm Le mie Le mie cose Proprio fondamentali Poi appunto Faremo la nostra casa Anche magari più avanti Quando avremo già il quarzo Perché così potremo Contare su Maggiori risorse Quindi Allora adesso Piazzo semplicemente Queste slab E poi direi che Anche se Magari un po' presto Voglio cominciare A andare a fare Gli scavi Per la farm Di scheletri Che però Farò sicuramente Off camera Perché Appunto La farm di scheletri Cioè Verrebbe noioso Quindi non voglio Annoiarvi Però E appunto Una cosa che Non ho detto Nell'ultimo video Vi ho lasciato il seed In descrizione E chi vuole Logicamente Senza Non voglio obbligare Nessuno Però chi vuole Può Girare per la mappa Come fanno Molti altri youtuber E Se trova qualcosa Appunto E vuole Vuole dirmelo E è liberissimo Di farlo Appunto Seguirò anche Quello che mi direte voi E niente Comunque gli slab Che sembravano tanti Non bastano Incredibile E Sì Incredibile Veramente Perché qua Non bastano Sul serio Peccato Molto Ah no Aspettate Perché ho qua fuori Ho Ancora un po' Di cobblestone Se basta Ragazzi Davvero La precisione Viene Verrà giusta Giusta Se basta Vediamo un attimino Allora Se lascio di qua Allora Tac Illuminiamo anche In casa Ovviamente Ok In casa E fuori Ok Tac E Ok Di qua Oddio Devo andare a mettere Una torcia Lassù No Più in alto Ok Lì Anche di qua Bisogna mettere Un'altra torcia Ok Quindi Salta Salta No Dove l'ho messa L'ho tipo messa in casa Va bene lo stesso Comunque Anche questo episodio Alla fine è venuto Abbastanza lunghetto Comunque va bene lo stesso Ragazzi Se ci prolunghiamo Ogni tanto Va bene Non è un problema Però abbiamo trovato Cavoli Abbiamo trovato il dungeon Adesso cosa faccio Lo screen alla casa E lo screen al dungeon Bella domanda Direi che farò lo screen Al dungeon Per questo Per questo episodio A parte che voi L'avete già visto Perché il punto video Già è cominciato Da un bel po' E Abbiamo un po' di cobblestone Riusciamo a fare La trislab Si che ci riusciamo Dai Più che tutto Ve lo voglio dormire Ecco No beh la casa Quando ci saranno Anche i vetri La farò diciamo Ok quindi appunto Adesso cominciamo A andare a fare Un po' di scavi Per quanto riguarda La farm Di scheletri Ragazzi Qua appunto Se adesso non basta Nel slab Le finirò Farò anche un po' Di sabbia E quindi Per questo episodio Tutto io vi ringrazio Come al solito Sono veramente contento Dell'entusiasmo Che c'è Anzi guardate Proprio perché siamo Dei redstoner Ci facciamo Una pressure plate Ok Un po' più di redstoner Di quelli pro Eccoci La mettiamo qua Perfetto Ok ragazzi Quindi per questo video è tutto Adesso anche qua Provederò a fare magari Un sentierino Che mi agevola Un pochettino Alla salita Altrimenti Devo fare una scalata Ogni volta E niente Quindi io vi ringrazio E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti